Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio di Outlast Se ve lo state chiedendo, sì Ho fatto la pipì E sono subito dopo ad essere andato in bagno Però mi metto a posto il microfono Perché non me lo sono messo bene Ok Se volevate sapere il rumore che avete sentito in un precedente episodio Che ho detto che era un mazzo di chiavi Ho scoperto che era un babbo natale a Dobbo Va bene, va bene Ah sì, avevamo parlato di questo Ma il mio obiettivo è trovare padre Martin nell'ala femminile La luce mi dice che devo andare di qua E io seguo la luce Non è tipo Horror House segue la luce rossa, tipo Perché è andato ad Horror House Eccolo Padre Martin Sembra che ha usato il dito medio, vabbè Certo, anch'io ti voglio bene Ma non può Venire lui da me Chiedo, eh Non so Facciamo così In questo episodio andremo direttamente da padre Martin Senza cavoleggiare in giro No, devo andare per forza di là Siamo sicuri? Mi sa di sì Ovviamente io devo andare sempre da dove ci sono i tizi Forse non mi fa niente Uno attacca da una parte e uno dall'altro Mi sa che sono i gemelli No, non so se sono i gemelli So che se non trovo una batteria Sono fregato No, cavolo Grazie Musichette? Scale Oh, mi fa passare Grazie Non ci riuscirò di nuovo a fare cosa Sedi a rotelle Oh Ok, grande Preccia col sangue Siamo tornati a seguire il sangue? Salvataggio Ma che palle Ok, una cosa brutta di questo gioco È troppo ripetitivo e dice padre Martin Eh, se mi dai la chiave volentieri Ammazza tutto distrutto Ah beh, mi è Mi è lì dove mi aveva parlato prima Cioè dove mi aveva Cioè avete capito Prima l'abbiamo visto in alto e era lì Credo Oh mio dio, ma dove sono finito? In un luogo dimenticato dal dio No, c'è un prete, quindi no Che è sta roba? C'è una chiave Non mi dirai veramente Che devo trovare tre fusibili Salvataggio Brutto di questo gioco Troppo ripetitivo E il fatto che sia ripetitivo rende tutto spaventoso No ragazzi, io c'ho paura Questo mi salta addosso Lo facciamo insieme? No dai Ti lascio fare Mi dai a batteria almeno No, grazie Allora, da una parte ci sarà un fusibile E da uno Gli altri due Ok, di qua mi sa che ci sono due fusibili Qui andrò di qua For revelation Pray for revelation Certo Amico mio, tu mi fai qualcosa? Non mi fai niente, ok Immagino che appena lo prendo mi farai qualcosa Giusto? Fammi ricaricare Che poi Sparo Sono l'idiota Ma non mi fai niente? Non mi fai niente Ah, ok Ah, ok Allora siamo amici Ma ti chiudo la porta Mi chiudo la porta in faccia Ah, se tu non mi fai del male A me sta benissimo Se mi fai passare Mi sta ancora meglio Ci vediamo dopo Adesso questo mi salta addosso No Aspetta che io abbia tre fusibili Ah, da una parte di sicuro ci sarà qualcuno che mi salterà addosso Oh, che bello Gioia mia Senti amico Tu non mi hai visto Tu non mi hai visto Tu non mi hai visto Una via Una libertà Un fusibile Eccolo qua Via di qui Via di qua Ci vediamo dopo Aha L'unico modo Per trovare il terzo Ovviamente È chiudere le porte in faccia Sperando che poi questo ci lasci in pace No, chiuso Arma dietro Andiamo in questo Spengo che così almeno non consumo Cerchiamo di mantenere Bene le batterie Visto che già le prime ne abbiamo perse tutte in cinque secondi Ok, musica da inseguimento se n'è andata Ma io lo sento Comunque potete vedere dall'angolo in alto A sinistra Che stiamo registrando questa serie da ben due ore E vai E prova ad uscire Ho visto una cosa che è da chiudere per di là Quindi mi sa che devo andare Cioè per di... Per dove è venuto il tizio Punto Ok Ok Siamo salvi Però dovremmo trovare un'altra uscita immagino Oppure il terzo fusì Batteria Sì batteria Non si può uscire da qui immagino Però intanto Stiamo trovando tante batterie Che è buono Che c'è scritto? Invite Invita il warrider Dobbiamo invitare il warrider Cos'è? Una festa dobbiamo invitarlo Il fusì per uscire da biancheria Eh Non so dove è il terzo Eh grazie al cavolo Se c'è questa cosa per chiudere Significa che probabilmente c'è un'altra via d'uscita Oppure sto solo sparando cavolate Eh il terzo fusì Non si troverà mai Boh a sto punto usciamo Apri sta porta No Non ti ho detto di spostare il coso È aperta la porta? No Aprila Oh mio dio Ti ho detto di aprire la porta? Cioè Non me la fa aprire per qualche centimetro Sì Adesso si corre Ciao di nuovo amico Ha detto autolust O mi sbaglio No mi sbaglio io Forse ho trovato l'altra via Una lattina Si è andato Credo che mi hanno trovato la via Per il terzo fusibile No no siamo tornati indietro Però forse il terzo fusibile È da qualche parte indietro Tipo di là Ma che cavolo Ma cos'è il tizio di prima? Ah il terzo fusibile Immagino sia lì Alla prossima boh intanto uno e due se voi sentite i rumori tranquilli non è niente ok strada giusta mi sa quindi tizio sarà da qualche parte di qua ah non c'è strano probabilmente era lo stesso tizio di prima visto che ho capito che si può passare anche benissimo documenti mi spiace per te amico mio drive in veneto non so cosa significhi drive vuol dire guidare ah ma è una croce al contrario satanisti ok dobbiamo uscire di qui mettere a posto il fusibile e la porta non si apre solo per un centimetro inizio ad odiare i cosi che bloccano le porte a volte salano la vita a volte ti fanno perdere solo che tempo però si si su Grazie.